L'impianto a cippato che serve il polo scolastico, un intervento davvero molto importante, è finanziato grazie anche ai fondi del PSR dell'asse 3. Cosa avete fatto qui a Lama? Questo progetto prevede l'installazione di una caldaia a biomassa e che funziona appunto col cippato, quindi con dei resti di legnami, anche di quel legname di scarto comunque che serve per la pulizia dei boschi. Questo impianto va a riscaldare, quindi va a fornire riscaldamento in tutti i nostri plessi scolastici, quindi dall'edificio della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, scuola materna e la palestra, mensa e cucina appunto dove vengono preparati i pasti per i ragazzi. Questo ci ha permesso innanzitutto comunque di mettere in moto dei progetti che producono energie e calore pulito, quindi energie alternative e dall'altra parte anche di realizzare un cospisco risparmio per le casse dell'amministrazione comunale. Noi possiamo dire, già sono due inverni che riscaldiamo con questa nuova caldaia, con questo nuovo sistema, indicativamente di essere attorno a un 50% di risparmio rispetto alla spesa precedentemente sostenuta con il tradizionale riscaldamento. Un risparmio importante, in soli 5 anni questo intervento si ripaga di fatto, però appunto qualcuno lo ha finanziato, da una parte l'Unione Europea, dall'altra parte l'amministrazione comunale. Sì, questi finanziamenti dalla Comunità Europea, piano di sviluppo rurale, diciamo che per il nostro territorio sono finanziamenti davvero importanti. Non va anche dimenticato un altro aspetto, che comunque mettono in moto anche un'attività generale economia sul territorio, perché si è creata una filiera di agricoltori, di persone quindi del luogo, che producono questa materia prima e quindi si realizza un reddito anche a livello locale. Quindi un intervento anche lungimirante, importante, provincia, regione, Unione Europea, amministrazione comunale, un bel modo di fare sistema, come si dice? Certo, un bel modo di fare sistema senza ombra di dubbio, che guarda anche lontano e credo che su questi progetti, su queste politiche dobbiamo davvero lavorare. Tra l'altro, ragionando proprio di un intervento su una scuola, credo che abbia anche una duplice funzione, che quella, la scuola è il centro comunque dove i nostri ragazzi passano tutti, i nostri bambini, ma anche le nostre famiglie. Quindi è un luogo in cui poi dimostrare, fare vedere, quindi fare anche educazione, produrre dei progetti che possono essere punto di riferimento comunque anche per altri soggetti e altre persone. Tra l'altro, questo progetto si è inserito in un progetto più complessivo di riqualificazione di tutto il nostro polo scolastico, dove ha partecipato anche la Fondazione Cassa Risparmio di Modena e quindi ci ha permesso davvero di completare un intervento a livello locale delle nostre scuole molto qualificante. Un modo per integrare il reddito della sua azienda, questa collaborazione con l'amministrazione comunale attraverso il PSR? Sì, è un valore aggiunto che abbiamo sul reddito dell'azienda. Ci siamo inventati, diciamo, in base anche a quello che è adesso questo sistema qua di utilizzo di biomasse che probabilmente sarà anche un settore che avrà anche qualche sbocco perché specialmente i giovani adesso hanno grosse difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e se uno non trova qualcosa di nuovo e praticamente con questa crisi che c'è adesso in generale non ha niente come lavoro, non ha sbocchi insomma. Quindi voi recuperate il cippato e lo portate attraverso questo camion appunto qui alla centrale? Abbiamo le macchine, lo raccogliamo nei boschi, praticamente quasi tutto materiale di scarto lo raccogliamo nei boschi, lo portiamo in un spiazzo dove lo stocchiamo e poi dopo con queste macchine lo trasformiamo in cippato poi lo consegniamo a chi ha questi impianti, insomma ne abbiamo alcuni e poi sappiamo già e abbiamo avuto dei contatti con altre amministrazioni che sembra che anche loro siano interessati a fare questi impianti qua che hanno poi alla fine un notevole risparmio nel riscaldamento. Il rapporto è circa 1 a 3 dall'utilizzo del gas, utilizzare il cippato il rapporto è molto vantaggioso.